Allora, cari gruppo, c'è lo suo atto, la terza del pastore presso, gli amici. Scissi, va bene. Quattro oggi. Lo Sheklau. Ah, Sheklau. Kippon del Pogli. No, no. Cari da pastore su Cece. Ancora il pastore del Grillo. Il pastore del Grillo. Prego. E ancora il pastore del Grillo. Ultimati a parte del pastore del Grillo. Il pastore del Grillo. Avvisalo che è sul materno. Ultima esatta per il pastore del Grillo. E subito il Grillo del Grillo del Grillo del Grillo del Grillo del Grillo del Grillo. Dove I pensato che in capra. Un applauso per una corruplazione che non mi ricincerebbe Natalia. Anche per le mani e cucinali a 650 venti. Sì, 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 sì. a Bordone, un sacco intensivo da Bordone, devo dire qual è la data. A Bordone, a Bordone, a Bordone, a Bordone. A Bordone, a Bordone, a Bordone.